...i fiumi inquinati, nessun paese europeo nelle nostre condizioni, quindi partiamo un po' fuori dall'Italia, partiamo anche un po' dentro casa nostra. Il super sfruttamento dei grandi fiumi, che è un problema per un'agricoltura che consuma tantissima acqua, quello che vediamo di WF, la operazione di calcolo di quanta acqua c'è nei prodotti che importiamo, è vero, perché si stanno prosciugando i grandi fiumi, perché c'è un'agricoltura dedicata a multinazionali, un fattore commerciale che sta consumando, che sta consumando le risorse, purtroppo noi siamo...